Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Fabrizio Corona decide di rompere il silenzio e commenta la rottura tra Ilari Blasi e Francesco Totti. Fabrizio Corona ha deciso di dire la sua, dopo la confermata rottura tra Ilari Blasi e Francesco Totti, e mette in mezzo le foto con i nuovi presunti compagni Noemi Bocchi e il giovane sconosciuto amante della conduttrice. Scopriamo cosa ha detto. Leggi anche, Ilari Blasi amante, chi è il ragazzo che incontrava a Milano? Totti ha trovato i messaggi, Corona contro Ilari Blasi Fabrizio Corona ha attaccato duramente Ilari Blasi per il comunicato stampa utilizzato per ufficializzare la rottura con il marito Francesco Totti. La conduttrice nel suo annuncio ufficiale ha richiesto riservatezza e la cosa non è andata giù all'ex re dei paparazzi. Il comunicato stampa di Ilari Blasi ma cosa c'era scritto nel comunicato stampa di Ilari Blasi che ha fatto tanto infuriare Corona? Ecco il testo integrale ufficializzato da Ansa, Fabrizio Corona, adesso cercate le foto di Totti e Noemi, ma Fabrizio Corona non si ha limitato a commentare le parole di Ilari Blasi e ha fatto una richiesta al mondo dei paparazzi e dei giornali, il commento di Corona su Ilari e Francesco restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito alle parole di Corona contro Ilari Blasi e le nuove foto di Totti con la nuova presunta compagna Noemi Bocchi. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao! Ciao!